cari amici telespettatori di youtube siamo qui per analizzare prima di tutto la vittoria del milan che vince in maniera convincente con gol di leao su assist di jake etlar e poi la doppia girou su assist sempre di leao la squadra ha giocato molto bene abbiamo avuto tantissime occasioni e il risultato poteva essere molto più rotondo e quindi insomma le prospettive per far bene ci sono tutte e quindi su questo contiamo secondo argomento di cui vorrei parlare assolutamente è stata la data finale della macchina del tempo a monte grotto grandissima serata con ivana spagna e johnson vigueira naturalmente i mitici evolution 80 e tante sorprese tra le quali anche robbie dei los e la sua compagna cinica è stato bello rivedere robbie e sicuramente una grande sorpresa di rivederà in vicinanza delle village grotto e naturalmente insomma è stata un'ottima serata la musica comunque continua ragazzi e quindi sono tanti altri eventi che potrete vedere e adesso è detto questo vi abbraccio e vi mando un grosso bacio e a presto al prossimo video ciao 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 ciao